Siamo qui con Arturo Calabresi, oggi una vittoria importantissima, il quarto risultato utile consecutivo. Secondo te quanto pesa questa vittoria nel cammino del Pisa? Pesa tantissimo, ha un valore immenso per dare continuità a quello che stiamo facendo, per invertire l'inerzia di questa stagione attraverso la convinzione in quello che facciamo e un atteggiamento giusto e sul pezzo come avviene da qualche gara a questa parte. Parliamo di te, sei entrato con la Reggiana, forse uno dei migliori in campo, e anche oggi hai riconfermato con una grandissima prestazione un gol. Cosa ti senti di dire del tuo momento di forma e cosa ti aspetti dalle prossime partite? Mi sento bene, sono contento che si iniziano a vedere dei risultati nelle prestazioni, nel rendimento. Ho lavorato tanto, ho avuto un paio di infortuni che mi hanno interrotto l'inerzia per una condizione fisica ottimale. Adesso mi sento bene e sono contento per questo.